Avete parlato invece di Erdogan Europa? No, non abbiamo parlato di Erdogan. Le parole di Draghi che comunque hanno scatenato una reazione anche in Turchia abbastanza importante? Lezioni di democrazia dalla Turchia penso che nessuno al mondo ne possa prendere, non abbiamo parlato di questo. Ecco però la stessa Europa, il PD, il partito tipicamente europeista, non c'è stato un confronto per quanto riguarda la visione d'Europa, anche alla luce di quanto è accaduto? Questo sarà filosoficamente interessante da affrontare come dibattito quando l'Italia sarà ripartita. In questo momento ogni mia energia e penso anche ogni energia diletta sia dettata dal tema salute, lavoro e ripartenza. Tutto il resto viene dopo, dall'Europa alla legge elettorale, tutto il resto viene dopo. Ho ribadito per quello che riguarda il Copasir la mia richiesta di azzerare tutto, di dimissioni di massa e di ricominciare tutto da capo. Adesso vediamo se alle parole seguiranno i fatti, se tutti saranno disposti a dimettersi. Guardate la proposta del Copasir, sono andato in via davanti di letra o di letra? Chiedetelo a lui, mi sembra che sia una proposta sensata.